Ciao ragazzi eccoci qui con GP e Mabel Caruso Grandi! Oggi andiamo a Sassovaro a fare l'esibizione Sei pronto bro? Sempre pronto fratello, sempre ora di showtime Guarda qua, guarda qua, guarda qua Ora di showtime Con le ciabattine con swag fran Wow yeah man Grande GP Te Manu come stai? Carico Carichissimo come sempre Super carico Manu di Caruso è uno dei più forti proprio atleti a livello mondiale di tirata Guardate che braccio è Ora ti faccio una cosa di spinta Bombo clan ragazzi Grandissimo A freddo Grandissimo A freddo Grandissimo Manu Fantastico Venuti fino a Sassovaro Esibizione annullata Eccolo Ecco la notizia L'esibizione annullata La pioggia E va Siamo belli pronti Sei pronto? Ero Sì Esibizione annullata Diciamolo Esibizione annullata Diciamolo a Giampaolo Diciamolo a GP Esibizione annullata Oh Sei pronto bro Bisolino time Dai dai E quindi che cazzo facciamo? Eh che cazzo facciamo? Tieni te lo sbattiamo Ci andiamo ad allenare e ci andiamo qua Dai su Facciamo un po' qua Andiamo a fare Andiamo a mangiare Ci diamo fuori dal cazzo Ciacchè Eccoci arrivati Al parco di Porta Venezia No Si chiamano giardini pubblici idromontanelli Devi essere più specifico Gaggi Eh? Le informazioni bisogna darle corrette Scusa Giampaolo Grazie a tutti Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! E niente, l'allenamento è finito, ringrazio i ragazzi della compagnia per l'allenamento. Grazie mille, ci vediamo presto! Bella Fadello! È sempre un mega piacere vederti Fadello! Grande GP, un piacere mio! Grandissimo! Grande! Se il video vi è piaciuto lasciate un tasto like, condividete il video e ci vediamo al prossimo! Vi saluto! Adesso un saluto finale da Manuel Caruso con una full planche! Non è vero una merda! Fadell'allenamento!